cleto corpo santo scrittore sociologo e viaggiatore presenta in viaggio una vita da flaneur Episodio 8 La Scozia Appartengo a una generazione che in gioventù ha vissuto di dualismi, dal calcio Mazzola o Rivera e la famosa staffetta alla finale dei campionati del mondo nel 1970 e poi la musica, Beatles o Rolling Stones, baronetti contro sovversivi, fino alle discussioni molto in voga tra i giovani degli anni settanta, Londra o Parigi. Allora mi dichiaro, Mazzola Rivera per me era Mazzola, pur riconoscendo a Rivera la classe infinita, Beatles o Rolling Stones era Beatles per tutta la vita, anche se con il tempo ho imparato ad apprezzare i Rowling, ma certo che Pink Floyd erano già un'altra cosa. E Londra o Parigi, Londra. Sono fermo a quell'idea, non ho mai avuto cedimenti e ovviamente sono stato anche a Parigi. Londra è forse la città che ho amato di più in Europa. Ne ho viste molte, capitali, ho visitato moltissime città, in alcune ci sono anche tornato molte volte. Berlino, Vienna, Praga, Barcellona, Atene, Lisbona, Helsinki, Reykjavik, tutte con grande fascino. Ma Londra resta Londra. È l'unico posto in Europa dove non mi stancherei mai di andare. Il perché è semplice? Perché probabilmente, da sempre, la capitale inglese rappresenta il miglior modello di integrazione, il posto dove possono convivere culture fra loro diversissime e dove praticamente puoi fare tutto, ma proprio tutto quello che ti piace. È una città moderna e lo era già allora, negli anni settanta, quando il resto dell'Europa era ancora schierato in qualche modo fra Occidente e Oriente. Londra non aveva bisogno di schierarsi, era già una città multietnica, multilingue e multiculturale. Aveva già fatto la sua scelta di modernità. La ricordo bellissima, già la prima volta che sono arrivato a Victoria Station con un autobus rosso e l'ho sempre ritrovata meravigliosa tutte le volte che ho avuto la possibilità di ritornarci. Ho abitato per alcuni periodi nella zona sud-est a New Cross Gate e mi divertiva molto sentire lì, nella zona privilegiata, l'incomprensibile accento crockney che i londinesi del sud-est hanno in modo marcato. Anche se il fascino, e assieme lo sgomento a volte, dei differenti accenti inglesi non è solo di Londra naturalmente. Ma in quella parte della capitale ho ritrovato anche qualche pezzetto della famiglia di mia madre, un suo cugino emigrato negli anni sessanta dalla Puglia, da Bari. E una delle cose più divertenti che ricordi di quegli incontri è certamente legata a John, il figlio adolescente nato a Londra, che parlava appunto crockney e sua madre lo invitava a non abusare con quell'accentaccio, ma non italiano, mentre comprendeva perfettamente i genitori, che ogni tanto discutevano ancora in perfetto dialetto barese. Era veramente uno spasso. La capitale inglese, perlomeno nelle mie prime tre e quattro volte, è sempre stata legata all'Università di Colchester, che ho frequentato per qualche anno. È la prima volta, non si scorda mai, la bellissima e faticosa esperienza a Essex, quattro settimane regolate da una rigida alternanza, corsi, esercitazioni, la sera cena e chitarra, il tutto concluso poi dagli esami di fine corso. Bene, quell'esperienza anche significato, sempre, di instaurare grandi rapporti di amicizia, con un sacco di gente che con me ha frequentato nel corso degli anni il corso di diploma Post-Graduated in Data Analysis. Oltre a Giovanni Anania, catanzarese, marcosentino di università, cito a memoria Gianni e sua moglie, una coppia di romani che erano arrivati in Inghilterra in auto. Così come in macchina, era arrivato pure Marco, uno svizzero allampanato. E poi Francisco, un catalano, fiero di esserlo, di Barcellona naturalmente, che viveva in una casa in cui mi ha invitato molte volte ad andare a trovarlo, e non l'ho mai fatto, una casa non molto lontana dalla Avenida Diagonale. L'inglese di Francisco era molto ostentato. Un giorno, vista la fatica che faceva rispondermi in inglese, mi ha proposto di parlare ciascuno nella propria lingua, italiano io e catalano lui. Così capisco di più, aveva detto ridendo. E poi ancora Sonia, Serena, tutti e due milanesi della statale, e un ragazzo belga di Lovagno di cui purtroppo mi sfugge il nome 42 anni dopo. Con tutti ho avuto un rapporto molto bello, con qualcuno di loro ho anche condiviso altri viaggi. Il caso per esempio di Gianni e sua moglie erano arrivati a Essex in auto da Roma, una 127, mi par di ricordare Bianca, anche perché avevano in mente di andare in Scozia alla fine dei corsi. E la proposta nacque così all'improvviso, una delle ultime serie di giugno, prima degli esami finali. Perché non vieni con noi a farti in giro in Scozia. Decisione presa in un minuto. La mattina dopo una telefonata alla mitica Monarch Airlines per vedere se fosse possibile spostare il volo di ritorno a Malpensa. Risposta affermativa. E via, verso la Scozia. Siamo partiti i primi giorni di luglio del 1978, senza un itinerario preciso. Davanti a noi tanta strada, ma anche tanta voglia di vedere la maggior parte possibile della regione scozzese. Unico punto fermo, avremmo recuperato ad un certo punto una loro amica, che era anche la figlia di una giornalista che lavorava a Repubblica, con la quale avevamo un appuntamento un certo giorno a Edimburgo, in aeroporto. Il viaggio in macchina è molto lungo ma molto divertente. Gianni e sua moglie sono due persone interessanti, con le quali condivido molti interessi, compreso, per dire, quello dei viaggi. La cosa che in quel momento in realtà ci legava di più. Ricordo molte strade lunghe e diritte in Scozia, in mezzo al verde, con la difficoltà di marciare a sinistra, con la Fiat 127 italiana con guida a sinistra, ovviamente. Molte volte, lungo le strade semideserte e su tragitti lunghi, si finiva per riacquistare la posizione incareggiata che sembrava più naturale, per spostarsi prontamente, ovviamente, quando in lontananza si intravedeva l'arrivo di altre macchine. E fu proprio su una di quelle strade lunghissime, poco trafficate, che un giorno, ascoltando la radio, sentimmo la notizia della morte di Papa Paolo VI, Giovanni Battista Montini. Era il 6 agosto del 78. In quel paio di settimane in Scozia, ricordo con grande piacere Edimburgo, Glasgow ed una serie di paesini piccoli e pieni di posti dove era possibile mangiare e assaggiare il whisky, of course. Ma in particolare due sono ricordi che si sono fissati in modo più preciso nella mia memoria. Il primo è legato ad un posto incredibile, un piccolo paese posto praticamente al centro della Scozia, Kinglok Rannock. Ci finimmo perché non mi convinceva l'idea che, su una cartina poco dettagliata di cui disponevamo, la strada verso Nord-Ovest, volevamo infatti andare alle Ebridi, sull'isola di Sky. Bene, non mi convinceva il fatto che la strada si potesse interrompere all'improvviso. Avremmo dovuto fare un giro molto più lungo passando per Inverness, ma convinse il resto del gruppo che non era possibile che la strada finisse lì. Certamente si prosegue, dissi, è che non abbiamo una cartina molto dettagliata. Mi sbagliavo. La strada finiva proprio lì e quando ci arrivamo nel tardo pomeriggio decidemmo di fermarci. Potevamo fare altro? No, fu una delle soste più belle comunque, perché nei dintorni scopriamo un lago, uno dei tanti disseminati nel territorio scozzese, un lago di grande fascino. Alla fine, insomma, si rivelò un errore piacevole. Poi, ovviamente, rifacciamo un bel pezzo di strada indietro per poter prendere quella che avremmo dovuto prendere prima, per raggiungere Manlike, il punto di partenza, per il veloce traghetto che ci avrebbe portato sull'isola di Sky. Ho un ricordo bellissimo di quel viaggio, poco meno di tre ore in mare, tutte passate praticamente ad ascoltare un gruppo di musicisti che hanno suonato musica celtica con le loro arpe dalla partenza all'arrivo. E poi via in macchina con destinazione Portri, il capoluogo dell'isola. Una cittadina bellissima e piena di vita. Torniamo verso Edimburgo perché io devo rientrare in Italia mentre il resto del gruppo si ferma ancora qualche giorno in Scozia. Ci salutiamo alla stazione ferroviaria di Edimburgo. Da lì prendo un treno che mi riporterà a Londra e poi Luton e poi Malpensa. Ho la riprova anche di quanto siano cari i trasporti in Gran Bretagna per noi italiani, ma credo anche per loro. Compro un biglietto per un viaggio da Edimburgo a Londra su un treno veloce, se no ci metto troppo tempo e non ce la faccio prendere l'aereo. Ho un'ottantina di sterline in tasca. Tanta roba per quegli anni. La sterline valeva circa 3500 lire. Il biglietto mi costa 47 sterline e all'improvviso mi sento più povero, ma lascio la Scozia felice. Ho visitato un posto fantastico con l'inglese più difficile da capire di tutto il mondo. Bye bye Scotland. Professor Corposanto, mi scusi la domanda, ma lei non si è stancato di viaggiare? Ma zero proprio, zero. Questo è un podcast indipendente, prodotto in collaborazione con una ristrettissima cerchia di amici.